Un territorio bello, questo è lo spettacolo che si poteva ammirare questa mattina a Triangia, ma allo stesso tempo fragile. I rischi non si possono eliminare, ma la prevenzione può fare molto, così come la formazione dei giovani. Il centro di promozione della protezione civile di Sondrio, che ha come scuola capofila Litas Piazzi insieme all'istituto Besta Fossati, ha organizzato un evento online. La tecnologia è importante per diffondere un messaggio che però è molto concreto legato al territorio. Sì, in questo momento di emergenza coronavirus e quindi di vieti di assembramenti, grazie alla tecnologia, cioè alla possibilità di disporre di materiale multimediale, abbiamo organizzato per la giornata di oggi e per i giorni a seguire fino a sabato la possibilità a tutte le scuole che sono interessate di qualunque ordine grado di visionare in classe e di discutere anche sul tema della protezione civile. Ci sono dei filmati di vario genere, di diversa lunghezza, adatti sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, in cui viene illustrata l'attività della protezione civile, l'importanza della protezione civile e in un senso più generale anche l'importanza del volontariato e della solidarietà sociale. Anche durante l'importante convegno sulla protezione civile, svoltosi sabato a Sondrio e Lovero, che ha messo a confronto i protagonisti di ieri e di oggi, l'attenzione era rivolta ai giovani. Fra le attività che vogliamo promuovere nell'ambito dell'educazione civica c'è anche l'importante messaggio da lanciare relativo ai giovani che ciascuno con la propria competenza, con le proprie capacità di avvicinarsi ai gruppi di protezione civile, diventare volontari, aiutare le persone che ne hanno bisogno. Sono esperienze sicuramente molto belle, molto formative. Anche perché è importante, come si spiegava sabato, saper leggere il territorio e prevenire i rischi. Il nostro territorio, come si è anche evidenziato nel convegno, è un territorio molto fragile e quindi in manutenerlo non è soltanto tenerlo bello, ma anche tenerlo sicuro e tenerlo vivibile. Questo richiede l'impegno di tutti. Oggi più che mai è importante che i nostri ragazzi abbiano l'opportunità di conoscere da vicino lo straordinario mondo della protezione civile e delle persone che vi operano con grande generosità e abnegazione, sottolinea Fabio Molinari, dirigente dell'ufficio scolastico di Sondrio. Ritengo che le azioni messe in campo dal centro di promozione della protezione civile rappresentino a tutti i livelli un momento di riflessione fondamentale anche nell'ottica di valorizzare un più ampio e articolato percorso di educazione alla legalità.